Ciao ragazzi, video molto veloce, fatto praticamente quasi in diretta, per dirvi che questa che vedete qui è la scheda madre che ha praticamente creato i video di Viva l'Albe per, tipo, facciamo conto, sì, saranno sette anni. Purtroppo è venuta a mancare questo pezzo di scheda madre qua, con ancora tutte le robe attaccate, alcune altre no, e quindi niente, saluti alla scheda madre dopo sette anni, che è andata in pensione, e niente, ho preso il pc nuovo, me lo sono fatto praticamente come cacchio mi pareva, e il pc nuovo è questo qua, questo coso qua, beh, l'ho fatto con le mie manine, con le mie manineine. Colgo l'occasione per dirvi che questo sabato, sì, questo sabato e domenica, il team di Viva l'Albe sarà a giro per il Ludicomics a Empoli, e mi raccomando vi lascio sotto nella descrizione il link al... il link al Ludicomics a come far arrivare, dov'è, com'è, com'è fatto, e tutto il resto, quindi se vedete uno che mi assomiglia a giro per il Ludicomics, sono io, mi raccomando, e sì che c'è anche il bellissimo Matteo, il magnifico Enrico, ci sono tutti, tutti, ci siamo tutti, e niente, quindi ci vediamo a Empoli, e mi raccomando ragazzi, purtroppo niente video di Ti do una stella oggi, ma è così, i pezzi sono arrivati dopo, ho potuto montarlo dopo, e quindi questo video lo sto montando ora, ciao!